Un sistema sanitario a portata di clic grazie a SaluteLazio.it, il nuovo sito della Regione Lazio che fornisce ai cittadini tutte le informazioni sulle principali innovazioni della sanità laziale apportate dalla Giunta Zingaretti, quindi studi medici associati, case della salute, poliambulatori aperti nei weekend e festivi e guardia medica. Tre servizi accessibili, referti online, accessi in tempo reale e pronto soccorso e prenotazioni online tramite Recup. Oggi presentiamo un altro servizio ai cittadini che promuove i nuovi servizi della sanità che si stanno sviluppando nel Lazio e quindi la mappa già referenziata per trovare il proprio ambulatorio di medicina generale aperto il weekend il sabato e la domenica, i ambulatori aperti dal lunedì al venerdì, il refertor online da scaricare, nuovi servizi che spesso i cittadini non sanno che esistono proprio perché nuovi, perché rispondono a quelle domande che venivano dai cittadini. Ora i servizi ci sono e con salute Lazio.it iniziamo una promozione, sapendo che sta andando benissimo perché i referti scaricati sono già oltre 130 mila referti e questo è un dato molto positivo. Anche gli ambulatori aperti weekend stanno andando bene, i cittadini si rivolgono spesso a queste nuove strutture che prima non c'erano a Roma, sono già 15 e diventeranno 18. Poi oggi abbiamo annunciato che andiamo avanti sull'accoglienza nei pronto soccorsi, sui pronto soccorso in giornate come questi continuano picchi di presenza importante, oltre agli interventi nel campo medico e cioè per accelerare i ricoveri entrerà da marzo in vigore un'accoglienza e quindi stiamo formando 48 nuovi operatori che non verranno assunti di nuovo. Sono tutto personale della società regionale Lazio Service, quindi non ci sarà un aumento di spesa, questo ci tengo a dirlo, ma saranno orientate all'accoglienza nei pronto soccorsi in modo di garantire oltre che una buona cura anche una umanizzazione dell'arrivo in pronto soccorso. Al tempo stesso diciamo a tutti attenzione perché non c'è più solo il pronto soccorso a cui rivolgersi, ci sono altre strutture che è importante vengano valorizzate. Un'altra grande novità è un trip advisor della sanità e quindi noi chiediamo agli utenti su cinque capitoli diversi dal pronto soccorso al giudizio sul reparto, di indicarci opportunità, critiche, cose che si possono cambiare e oltre agli URP delle AS lo facciamo qui come regione per cominciare a costruire una banca dati sulle maggiori criticità ma anche sui grandi successi della sanità. Ci sono ogni anno milioni di casi di cui non si parla, però sono sicuro perché anche questi ci vengono raccontati, sono tantissimi casi di buona sanità. Oggi una protesta, una segnalazione non sarà più solo uno sfogo ma chi lo segnalerà lo segnalerà alla team che sta organizzando le trasformazioni della sanità nel Lazio. Col presidente Zingaretti abbiamo anche voluto parlare della denuncia del direttore generale dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini che sarebbe come un paziente in codice rosso quasi morente. Abbiamo poi interrogato il presidente Zingaretti anche sul futuro del Forlanini. Sul San Camillo e sul futuro del Forlanini invece cosa risponde? Abbiamo già risposto, in pochi mesi abbiamo aggredito anche al San Camillo quelle criticità che aveva quell'ospedale da anni, non aveva il dirigente del pronto soccorso della maternità, quindi dentro le more del commissariamento che spesso impedisce di poter fare gare o bandi abbiamo garantito un cardiochirurgo, due nuovi primari, dieci nuovi infermieri perché su quell'istituto stiamo investendo. E anche sul Forlanini stiamo preparando un progetto che ascolti anche le domande che vengono dagli operatori del territorio perché è una struttura immensa nazionale e quindi prima di fare passi falsi è bene studiare un progetto ma siamo quasi pronti. Intanto però viene invaso da clochard e prostitute? Sempre meno e anche su questo abbiamo investito con una gara per una vigilanza più accorta e anche una pulizia che tonga il problema ma il tema è dare a quella struttura una nuova vocazione e parliamo di oltre 120.000 metri quadri di un coinvolgimento della città, del territorio, dei municipi e come siamo abituati a fare noi prima di parlare studiamo i casi e quando si è deciso si parte e si parte anche velocemente ascoltando tutti.